Siamo nel pieno ovviamente della guerra fredda USA-Cina, l'Italia potrebbe svolgere a livello geopolitico e anche geografico un ruolo determinante, un ruolo cruciale, avessimo una classe politica all'altezza. Noi non disperiamo però le condizioni, i presupposti ci sarebbero tutti. Analizziamo la situazione con Paolo Borgognone, storico scrittore e autore, benvenuto Paolo. Grazie. Allora, partiamo dallo scorso anno con il memorandum che l'Italia e la Cina hanno firmato a marzo appunto del 2019, il memorandum firmato da Conte e da Xi Jinping in visita a Roma. Questo memorandum è all'interno del progetto globale della cosiddetta Via della Seta. Ecco, secondo te Paolo, questo memorandum sta producendo e produrrà effetti per il futuro o è destinato ad essere una, chiamiamola così, una dichiarazione di intenti che non avrà seguito? Grazie. Potrebbe produrne. Potrebbe produrne perché la Cina e oggi gli anglofoni direbbero un global player è veramente pervasivo, è performante e lo ha dimostrato negli ultimi anni. La Cina è un paese che di fatto nasce in qualche modo all'inizio del Novecento, ancora come semicolonia dell'Occidente e oggi è un paese di un miliardo e mezzo di abitanti dove, per fare un esempio, lo stipendio medio a Shanghai è già di 1.000-1.500 dollari al mese, 1.000 euro al mese, 1.000 dollari al mese, scusate, a Pechino. Quindi è già cresciuto parecchio rispetto a solo pochissimi anni fa. 600-700 milioni di persone tirate fuori dalla povertà dal 1949 in avanti, un decennio, quello della presidenza di Ujintao 2013, considerato in Cina il decennio d'oro, mentre qui da noi quegli anni non sono particolarmente ricordati come fortunati, e poi è un paese che ha una potenza anche militare importante, anche se si ispira nelle sue dinamiche di penetrazione economica, geopolitica, al soft power. Non intende mutare le strutture ideologiche, le abitudini, gli stili di vita dei paesi che va in qualche modo a interessare con i suoi progetti di connettività economica e commerciale. Naturalmente è un paese diverso dagli Stati Uniti, ma dove certe affinità si possono trovare. Oggi i miliardari cinesi sono in buona parte americanizzati e succede di tutto anche lì, l'upper class delle grandi città cinesi è chiaramente americanizzata e qualcuno dice che il Partito Comunista mantiene soltanto una vernice ideologica su un paese profondamente cambiato. In realtà la Cina è estremamente complessa e io penso che non sia così semplice inquadrarla attraverso lenti ideologiche e deformanti. Io penso che la Cina sia l'attore geopolitico con cui volenti o nolenti dobbiamo avere a che fare e credo che la prospettiva eurasiatica sia molto interessante, naturalmente questa prospettiva si deve aggiungere la Russia, ma penso che le armi russe e i capitali cinesi siano oggi un contraltare non così scontato rispetto a quello che è un'egemonia perduta degli Stati Uniti, che però è un'egemonia che tenta di rilanciarsi continuamente, lo vedremo forse anche tra un mesetto scarso in Bielorussia, stanno tentando una rivoluzione colorata in Bielorussia, sfruttando un trentennio quasi di presidenza di Alexander Lukashenko che comincia forse a farsi sentire, il numero degli anni di presidenza può essere, se molto elevato, può essere in qualche modo un fattore di rischio per una continuità del potere sempre uguale, ma al di là di questo la rivoluzione colorata la stanno tentando e le troveranno un nome, la rivoluzione delle pantofole, la rivoluzione delle mascherine, la rivoluzione di quel cavolo che so, però cercheranno di portarsi ai confini della Russia e di sottrarre alla Russia quello che è un alleato importante, la Bielorussia, insieme per alcuni versi alla Serbia, ma solo per alcuni, l'unico vero alleato della Russia in Europa anche se i rapporti russi e bielorussi sono altalenanti, però cercheranno sicuramente un attacco, un modo per indebolire, provocare la Russia e andare a spezzare questa alleanza, naturalmente queste provocazioni rinsaldano però le alleanze, perché dopo l'Ucraina la Russia e la Cina sono diventate, sai, quando sei messo alle strette ti alleia anche con chi magari fino a qualche anno prima consideravi tuo peggior nemico, perché russi e cinesi durante la guerra fredda hanno avuto dei momenti di tensione, tensione importante, però dopo il 1991 hanno capito che il nemico del tuo nemico è il mio amico, più o meno, per cui si sono alleati con un'alleanza eterogenea, non chiaramente definita, sensibile anche di essere rivista, però intanto hanno stretto degli accordi importanti che stanno cercando di portare avanti. Certo, in una recentissima intervista proprio dei giorni scorsi Steve Bannon, l'ex consigliere di Trump, ha detto che l'Italia è destinata ad avere un ruolo strategico nella sfida dell'Occidente con la Cina. Cosa intende dire, ovviamente dal suo punto di vista, quindi dal punto di vista degli Stati Uniti? Allora, su Steve Bannon io consiglio la lettura di un libro che ho qui, non so se si vede. Si vede molto bene, allontanano un attimo, eccolo lì, inganno Bannon, ecco lì, Maurizio Blondet, vedo con il quale tu collabori, tra l'altro. Maurizio Blondet, Andrea Marciliano, Gianluca Marletta, Claudio Mutti, Raido, Rigenerazione Evola, inganno Bannon, lo consiglio a tutti, libro agile ma estremamente analitico, lo dovrebbero leggere soprattutto i sostenitori dei partiti sovranisti, sovranisti elettorali che in Italia guardano a Steve Bannon, fratelli d'Italia, la Lega, e collegano questo libro che non può essere considerato assolutamente un libro de sinistra, semmai i libri sono di destra o di sinistra, una cosa che nemmeno mi interessa, però lo dico così a futura memoria. Legano questo testo e vedranno che Steve Bannon non è il restitutore della sovranità ai paesi europei, ma è l'ennesimo tentativo di maquillage di quello che è il neoconservatorismo in buona parte, oggi il neoconservatorismo si dà un abito politico, si veste di un abito politico tendenzialmente nazionalista, a parte io non sono assolutamente nazionalista, al massimo sono eurasista, che è un altro discorso, ma il nazionalismo di Bannon è totalmente funzionale a portare gli stati dell'Unione Europea singolarmente, uno per uno, soprattutto l'Italia, tra le braccia di una potenza, gli Stati Uniti, che di fatto eserciterebbe un controllo sull'Italia del tutto simile a quello che esercita oggi l'Unione Europea. Questo dunque è importante per capire com'è la dicotomia politica in Italia oggi, da un lato ci sono i fautori dell'Unione Europea, dell'integrazione liberale, europeista, i seguaci di Clinton e dall'altro ci sono i seguaci di Bannon che dicono vabbè l'Unione Europea possiamo in qualche modo farne a meno, fino a fin qui sarei d'accordo, ma poi costruiamo alleanze bilaterali tra l'Italia e gli Stati Uniti guidati da un signore che si chiama Donald Trump e che è uno dei principali sostenitori internazionali del sionismo, cioè di una dottrina ideologica e militare che tende ad imporre in determinati angoli del mondo, in determinati spazi geopolitici, una egemonia di taglio neocoloniale. Guardiamo al Medio Oriente, per cui il sionismo è diviso anch'esso in almeno due o tre varianti, questi guardano più al sionismo di Netanyahu, tant'è vero che Salvini in Italia è diventato un megafono di Trump e di Netanyahu, per cui il gioco politico in Italia tra i sostenitori di Soros e i sostenitori di Bannon è nauseante a fargli un complimento, bisognerebbe trovare una classe dirigente, una classe politica perlomeno che esca da queste logiche, stai con Soros e con Bill Gates o stai con Bannon e con Trump, sempre che Bannon e Trump siano esattamente la stessa cosa e su questo anche dubbi, perché comunque la politica di Trump è mutevole, anche se basata su determinati presupposti che possono essere penalizzati, Trump è un presidente di impronta jacksoniana. Bannon è uno dei leader di correnti politiche statunitensi che sono chiaramente improntate a un neoliberismo nazionalista, ma sempre neoliberismo? Chiarissimo, alla fine pur con diverse sfumature, ma voglio dire gli Stati Uniti rimangono una potenza coloniale. Per quanto riguarda Bannon, ovviamente Trump e le differenze ci sono tra i due, ovviamente Bannon è ex consigliere di Trump, lo era, ora non lo è più, quindi evidentemente i motivi ci sono. Riprendendo sempre le dichiarazioni dei giorni scorsi di Bannon, lui sull'Italia, riferendosi a noi, diceva voi avete Davos e Bruxelles che decidono chi deve governare il vostro paese, non c'è ragione per cui l'Italia non possa sostentarsi da sola, tuttavia non agite sulla base della vostra posizione perché avete un gruppo di politici incompetenti messi lì da Londra, da Bruxelles, da Davos e da Wall Street. È per questo che penso che dobbiate svegliarvi, conclude Bannon. Secondo te, al di là dei suggerimenti che inevitabilmente sono interessati, quelli di Bannon, che atteggiamento e che strategia dovrebbe adottare l'Italia nei riguardi degli USA e della Cina in mezzo a questa guerra fredda che, come dicevamo, potrebbe vedere l'Italia una figura, un paese protagonista? Sicuramente l'Italia dovrebbe cercare di recuperare quel minimo di dignità nazionale che le spetta e collocarsi in un'ottica che guarda una prospettiva multipolare, ma di fatto il multipolarismo, come abbiamo già avuto, ma voglio dire in altre occasioni. È un dato reale, è già nei fatti, è tangibile, non siamo più negli anni 90. Gli anni 90 sono stati ruggenti, come li aveva definiti Stiglitz, sono gli anni della conquista americana, dei cuori e delle menti, delle nuove generazioni di europei, di italiani, non solo. Questo è finito e dunque credo che per una classe politica degna di questo nome bisogna andare a passare, non si può chiedere a uno che ha appena tolto le rotelle dalla bici di vincere il Tour de France, non sarebbe giusto. Queste le rotelle ce le hanno ancora attaccate le loro ruote, per cui secondo me una classe politica degna di questo nome dovrebbe già cominciare a mettersi in mente che non siamo più negli anni 90, sarebbe già un passo in avanti notevole. Non chiedo di più, non mi interessa neanche molto la politica italiana, non ho tessere di partito, non sono neanche andato a votare ultimamente, per cui credo questo, credo che se già ci fosse un quadro politico al cui interno, un soggetto più o meno organizzato e un'organizzazione politica, prendesse atto del fatto che non siamo più negli anni 90, sarebbe importante. Perché non è così? Non è così perché i leader politici italiani del momento, Renzi, Salvini, Meloni, per dire i tre più noti, sono ragazzi cresciuti negli anni 90, per cui lo sono anch'io chiaramente, però prospettive diverse, in modi diversi di intendere la politica, le relazioni internazionali e forse anche il bene e il male sul piano internazionale, da quello che vedo, da quello che leggo, le dichiarazioni che riportano questi personaggi. questi ragazzi cresciuti nella cultura narcisistica degli anni 90 non possono che avere la mente rivolta, lo sguardo rivolto a quel periodo, poiché lo declinino da sinistra o da destra poco mi importa e poco cambia, però la loro cultura è questa, dicono la Meloni fascista, ma quando mai? Ma quando mai ha avuto la testa del movimento sociale italiano? E beh, l'ha avuta negli anni 90, ed era una ragazza negli anni 90 con tutto quello che ne consegue, ma quante persone hanno militato in partiti antisistema in quegli anni, crescendo però davanti a una televisione pro sistema? E Berlusconi ha 80 anni, ma la cultura degli anni 90 in Italia l'ha istituita lui, per cui anche lui pure essendo un ultraottantenne è un ragazzo degli anni 90, forse più degli anni 80 lui. Stavo per dire più degli anni 80 della Milano da bere forse direi, no? Sì, ma si è anche adeguato bene agli anni 90, perché gli anni 90 sono state la prosecuzione in ottica liberal di quelli che erano gli anni 80, che erano invece gli anni di Reagan, anni in cui il rampantismo finanziario era però in qualche modo ancora legato a un certo conservatorismo sociale che però declinava e che è stato sostituito negli anni 90 dal liberalismo societario, che ha interpretato meglio le esigenze della finanziarizzazione, perché col liberalismo societario la finanziarizzazione viaggia più veloce, c'è la digitalizzazione e si arriva oggi a istituire forme di organizzazione, di delimitazione degli spazi civili improntati alla virtualizzazione integrale, no? L'aperitivo da casa, ad esempio, è un bel mix tra anni 80-90 e anni 2020, l'aperitivo online è un orrore, ma chiaramente è un mix interessante, oppure un altro mix interessante è il gender nelle scuole col distanziamento sociale, col distanziamento fisico, scusate, il distanziamento sociale c'è da 5 secoli anche di più, distanziamento fisico, per cui io posso sposare un uomo, però gli devo stare a un metro e mezzo di distanza, chiaramente sono già due elementi che contribuiscono a mandare in tilt la società. Mi schiamoli e avremo un'esplosione. Hai detto appunto che la Meloni non è che è fascista perché aveva la testa del movimento sociale. Ma no, era la testa del partito di Fini. Certo, naturalmente. Di La Rusca, di Gasparri, sono in forza Italia. Certo, naturalmente. Allora adesso facciamo, visto che l'avevi nominato insieme, Salvini è un sovranista? Salvini è il megafono di Netanyahu e di Trump, sovranista di che? Sovranista elettorale. Poi se lui mi cita la Thatcher, la Oriana Fallaci, come si chiama quell'altra, Madre Teresa, Giovanni Paolo II, tutti i personaggi che sono stati molto vicini a quelle che sono le politiche della Nato, Salvini è sovranista dove? Di chi? Il fatto che abbia elogiato Putin mi va bene, ma se tu mi elogi Putin per spezzare l'alleanza eurasiatica e portare la Russia dalla parte degli Stati Uniti. Salvini ha avuto in passato importanti interlocuzioni con Alain de Benoit e Alexander Dugin, io ne ne rendo atto, però il Salvini di quel periodo, dopo il papete, è dileguato. Il Salvini che parlava di quarta teoria politica, in qualche modo ne parlava, anche se a modo suo non c'è più, c'è Salvini che per motivi vari, io nel libro che sto per pubblicare sul globalismo ho fatto tutta un'analisi della Lega, tra le altre cose, Salvini dopo il papete, dove è stato molto bravo a fare il matto, perché non è matto assolutamente, però ha fatto il bravo a farlo, diciamo che ha recitato bene, ha fatto una parte che non si vedeva da tempo sui teleschermi italiani, perché è veramente una riedizione importante dei film degli anni 60 sulla comedia italiana, l'ha fatta lui lì al papete ed è stato molto bravo. Bene, dopo quella presa di posizione Salvini, non a caso li stavano montando contro un Russiagate proprio in quei giorni lì, ricordate il Russiagate alla matriciana, ecco in quei giorni lì, proprio un anno fa cos'era, luglio, agosto 2019, ha capito che doveva orientare la bussola del suo partito politico verso lì di più affidabili, per determinati interessi che stanno fuori dal Parlamento italiano e che non sono eletti da nessuno, se non dai mercati. Senti Paolo, quando uscirà il libro dove parlerai anche della Lega? Uscirà, ma spero all'inizio dell'autunno. All'inizio dell'autunno, quindi? Dipende dall'editore, ma io spero all'inizio dell'autunno, però naturalmente è lecito che la casa editrice abbia i suoi tempi anche per correggere le bussie, perché è un lavoro voluminoso e se non sarà proprio all'inizio sarà a metà dell'autunno. Certo, allora stavo per dire che avremo occasione, noi ci vediamo anche qui prossimamente con le nostre cadenze bisettimanali, ma sarà interessante in occasione dell'uscita del libro per presentarlo, vedere la tua disamina sulla Lega e sul quadro politico italiano. Noi ci diamo appuntamento fra due settimane, Paolo Borgognone, storico, scrittore e autore. Grazie, a presto. A voi.